Colpito al volto da un compagno di scuola al culmine di una lite nata tra i corridoi dell'ITIS Cerulli di Giulianova. È accaduto questa mattina attorno alle 8.15 poco prima dell'ingresso in classe. La vittima è uno studente di 17 anni di Mosciano, originario del Marocco, che ha riportato una ferita alla guancia sinistra e la frattura del molare con una prognosi che i medici del reparto maxillo facciale dell'ospedale di Teramo hanno stimato superiore ai 30 giorni. A un compagno di scuola, un 18enne Giuliese, JM, le sue iniziali, che al momento è stato denunciato per lesioni personali aggravate e porto abusivo di coltello del genere proibito. I due studenti si sarebbero affrontati nell'atrio dell'istituto professionale. Da una prima ricostruzione, figlia anche della visione delle telecamere di videosorveglianza, pare che lo studente ferito abbia sgambettato il 18enne. A quel punto sarebbe scoppiata la rissa con il Giuliese che ha estratto il coltello ed ha ferito il compagno di scuola. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Giulianova, che hanno sequestrato il coltello a Serramanico e accompagnato in caserma l'aggressore, che in attesa delle decisioni del magistrato di turno è stato denunciato.